Hey moders! Buonasera, mi sono stati qua e siamo nuovamente qui per un nuovo entuselvantissimo gameplay di un nuovo entuselvantissimo gioco per Turbo Dismount è un gioco che mi stavate chiedendo in parecchi e quindi, beh, mi sento di dovervi accontentare perché molti di voi mi stavano chiedendo di questo gioco ho fatto un paio di cose e... è veramente una sorta di Happy Wheels particolare lo vedrete a brevissimo c'è anche una parte customizzazione che già ho fatto e... ci sono stati degli aggiornamenti che non ho visto quindi... andiamo subito io ho provato solo il livello classico e... non so cosa succederà ho cambiato la testa, ho messo una cosa particolare perché in giro ho visto un po' come funzionava e... quindi... facciamo una prova con... chicken? credo ok... bene... quindi... eh... siamo qui... stiamo utilizzando il... ahahahahah... ok... non avevo visto il risultato oh mio dio... eh... c'è il tasto per le pose ok... no no... fermi tutti fermi tutti si può usare il... wait... e... magicamente... no! si deve usare per forza il... ah, stai, stai, nazzola bene... allora... posso... ahahahahah... ok... questa è perfetta è... perfetta così ora... si... cosa è successo nella mia testa? mmm... sexy... ti vedo ok... allora... poi che... ahahahahah... ok... questa va benissimo ora... e... boom... oh yeah... mmh... oh oh oh... guardate questo scuritamento e... questo è quello che... più o meno... succede... hai... è una gamba quella? oh... ok... oh... posso anche vedere il replay? wow wow wow... fermi tutti! oh... oh yeah baby... vai... così... oh... 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 si... guarda questo scuritamento sexy! mmm... oh... yeah... mmm... rallenti baby... ahahah... ahahah... guarda che... e adesso... è... uuuh... uuuh... uuuuuh... 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 uuuuh... ahahahahaher finds... ahahahhh... ahahahahah... hahhh... ok... proviamo questo... va con questo... mmm... oh mio dio... sembra un pedofilo sto... oh... ehi... bambino... del rexino ti vedo oh mio dio poveri bambini oh si 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 andrò a prendere tutti i bambini ok il triciclo sta il triciclo sta bene oh si ci sono tanti bei bambini che oh si bambini mi piace questa piccola posizione guardate quanto è sexy oh si oh per l'uomo che non deve chiedere mai per il pedofilo che non deve chiedere mai ok ok si questa va bene oh si mi piace questo bel culetto sodo eh ok vai un pallentino forse un po' troppo lentino andrò a prendere tutti i bambini c'è tutti i miei ok già cosa potrebbe mai succedere sto per darvi tante belle carabelle bambini oh si sto divertendo a vedermi spracellare non credo sia una cosa buona la mia faccia è terrificante oddio santo ok ok credo che questo sarà un video per i maggiori 18 oh gesù no oh oh mio dio questa questa oh si mi chiuderà il carabelle un'altra volta io lo so Oh mio DONNO! Stava andando così... Stava andando perfettamente Perché piccione? Perché? Guardalo! Guardalo! Perfetto! Poi gli si sono spaccate le ali e tipo vedi il piccione tipo... Se avesse la bocca per parlare tipo... Temmerebbe... Oh si! Ho rotto le ali del piccione! Cos'altro poter rompere del piccione? DOSHI! Oh cazzo! Boom! Oh! Non può andare peggio di così no? Giusto? Oh merda! Oh cazzo! Ok! Qui tocca fare i faghi! Andiamo... Oh! Oh! Questa! Chissà! Mmm! Chissà dov'è il tubo di schiappamento! Oh cazzo! Sto parlando del mio culo! Non va bene! Non va! Questo gioco... Oh mio Dio! Oh! Oh! Certo! Oh! Ok! Ok! This mode! Oh! 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 Aspetta! Cile! Non mi piace questa cosa bambini? Hai un uff... fondata messa! Credo che potremmo andare! Angerzi! Si, di l'Fi! Perchè? Oh! è arrivato fa, oh si c'è tipo la mia faccia che fa, oh si ce la farò come se ce la farò e poi tipo, oh 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 no, oh no, oh oh che cazzo aio la sei il trono del capo ok beh, non mi sembra così complicato posa oh basic instinct non sei nessuno oh 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 che stai facendo io non posso guardarmi cos'è oh si bambino ti piace questo set io sei un pedofilo, sul serio non potrò più andare al parco per niente, oh Gesù non andrà bene per niente no, oh eh ok sax è time for me vediamo un po' cosa può fare questo bolide ok 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 oh wow wow buono ok piccione questa volta ce la faremo oh si guarda come andiamo bene guarda come andiamo bene vai piccione aio beh so alquanto bene che dite bene quindi guardate che chiappotte questo è la Turbo Disbound se vi è piaciuto potete vedere nuovi video che vedo qui sotto in descrizione io lo sto adorando togli quella oh Gesù perché ho fatto una foto è terribile ok bene so che ci sono molti altri livelli sul workshop di sim e quindi proverò anche a scaricarli e vedremo un po' quello che che succederà non ne ho la più paese sexy but ok quindi questo era tutto Gesù è è estremamente terrificante termine con questo video con play ci vediamo il prossimo video con play sempre con vos su Rax notturo ciao a tutti bro oh yeah ciao a tutti